Sarà il consorzio indaco di Padova il gestore uscente a condurre nuovamente il canile municipale della Madonnina. Per la giudicazione definitiva dovrebbe essere questione di giorni, tuttavia sulla gara d'appalto si allunga l'ombra del ricorso. Ad annunciarlo è Mai Laconti, presidente dell'associazione Onlus Valtrebbia di Travo, il soggetto escluso dalla commissione comunale per mancanza del requisito di capacità tecnico-professionale, è quanto si legge sul verbale di gara. Il bando in questione ha avuto una gestazione piuttosto tribolata. Una prima gara, scaduta a fine dicembre, era andata deserta, ragione per cui il comune aveva proposto il bis ai primi di gennaio. Inizialmente la scadenza dei termini di questo secondo tentativo era stata fissata per il 18 gennaio, termine prorogato al 22. Due le offerte pervenute, una dalla Padovana Indaco e l'altra dalla Onlus Valtrebbia. Nei giorni scorsi la commissione chiamata a esaminare l'ammissibilità delle offerte ha stabilito di escludere quest'ultima. Come si evince dal verbale, non sarebbe risultata in possesso dei requisiti professionali donei. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la presidente della Valtrebbia, che si è rivolta all'avvocato Giovanni Canè del Foro di Milano, preannunciando l'intenzione di impugnare gli atti. Sull'argomento, il vice sindaco assessore con delega alla tutela degli animali ha ribadito che la società è stata esclusa perché non ha esperienze precedenti di gestione di un canile, che era uno dei requisiti del bando.